Buongiorno a tutti, ci troviamo a Ost Milano 2021, finalmente in presenza e ci troviamo qui con Luigi Morello, Strategic Marketing Director. Buongiorno! Buongiorno, grazie! Sappiamo che avete diverse novità da presentarci, a partire da Faimina, quindi se ci vuole un po' raccontare? Sì, Faimina è la risposta di Cimbali all'ingresso soprattutto di un nuovo segmento, quello che noi chiamiamo Coffee Home Design, per cui è una scelta strategica di entrare con un prodotto di livello, quindi high-end, in un settore del design e dell'home. Faimina è una piattaforma da colazione, è una piattaforma in grado di confezionare caffè, quindi bevande a base di caffè lunghi, espressi, espresso italiano, tè con tutti i crismi, quindi con temperature dell'acqua diversa secondo i tipi di tè e cappuccini, sia in modo tradizionale, quindi manuale o anche automatico con il nostro AutoSteam. In più, la macchina ha la possibilità di fare il V60, per cui entriamo anche, per quello che dico, piattaforma da colazione, anche nel mondo del brewing e quindi confezionare in modo semplice vari tipi di caffè. L'altra particolarità è che è una macchina molto flessibile, può confezionare e quindi essere predisposta sia per l'espresso, così come per la grande tazza. Quindi questa è la cosa molto importante. Abbiamo la possibilità di regolare tutte le temperature ed è un prodotto di design, creato con materiali assolutamente, come dire, di premium e riciclabili, nel senso che la carrozzeria è fatta di alluminio, è fatta di acciaio e di conseguenza sono materiali prestigiosi. Abbiamo la griglia poggiatazze che è fatta di un polimero a base di caffè, con i fondi di caffè, per cui è una macchina pensata in tutti i dettagli del mondo home, del design e premium. Benissimo, abbiamo parlato di Faimina e ci sono altre novità di cui ci vuole parlare qui alla Fiera Host? Allora, presentiamo per quanto riguarda la Cimbali, oltre che il rebranding, che è la cosa, come direi, molto importante che lanciamo qua su questo stand a host, è il prodotto di punta, quindi il nostro flagship M200. È la macchina alto di gamma che in diverse versioni riesce a prendere un po' tutto il settore, degli specialisti di caffè e anche della, diciamo, caffetteria di alto consumo. È una macchina pensata per parlare al consumatore, è una macchina che comunica, quindi, in modo sensoriale, con tutti i sensi. Visivo, perché dal design completamente innovativo a questo display in grado di comunicare tutti i messaggi che si vuole far arrivare al consumatore finale. E, come direi, pensata per l'utilizzatore, quindi il barista, perché ha un'ergonomia completamente nuova e rinnovata che permette, con facilità, la postura corretta e l'ergonomia corretta durante tutta la giornata. È una macchina fatta con materiali pregiati, materiali comunque, come direi, riciclabili, come l'alluminio, come l'acciaio. La griglia poggiatazze è fatta di un polimero, anche questo, come direi, creato con i fondi del caffè. Quindi, è una macchina veramente così, che è proprio l'emblema della caffetteria a tutto tondo. Tra le novità che abbiamo qui alla Cimbali, c'è la S20 Fresh Brew, una macchina superautomatica pensata per una nuova tipologia di bevanda. È una macchina che è in grado di confezionare, oltre al classico caffè espresso, al classico caffè lungo, quindi parliamo di caffè di Ferlengert, di caffè creme, di regular, quindi caffè americani in generale, ma la peculiarità di poterlo confezionare anche con dell'acqua fredda. Questo permette di portare il caffè anche in tutti quei locali che oggi utilizzano la macchina per caffè per fare cocktail, per fare bevande energetiche, per cui è pensata per chioschi da spiaggia, per il fresh brew freddo, per le palestre, per tutti quei locali che vogliono offrire bevande energetiche e per chi utilizza la macchina superautomatica in modo veloce anche per confezionare tutta la caffetteria.